Ballando con le stelle Sembrerebbe essere scoppiato l'amore tra due copie di concorrenti. Le foto in esclusiva sono state pubblicate poche ore fa nell'ultimo numero del settimanale Oggi e, come protagonisti, hanno due copie ancora in gara nella trasmissione. Si tratta di Cristina Icch e Luca Fabilla e di Giaro Giarratana e Lucrezia Lando. I paparazzi infatti hanno sorpreso i concorrenti in atteggiamenti intimi dopo la trasmissione. E le immagini, al momento, sembrerebbero confermare un rapporto amoroso oltre che professionale. L'influencer Cristina Icch e Luca Fabilla, nello specifico, sarebbero stati beccati ad amoreggiare insieme in un ristorante. Ballando con le stesse, le coppie di concorrenti che si frequentano anche fuori dal programma. Nello scatto che ritrae insieme Giaro Giarratana e Lucrezia Lando, invece, è possibile vedere i due rincasare insieme, nello stesso palazzo, dopo aver trascorso la serata in compagnia l'uno dell'altra. Sia Cristina Icch e Luca Fabilla, che Giaro Giarratana e Lucrezia Lando, inoltre, sarebbero stati fotografati mentre, mano nella mano lasciavano insieme la trasmissione. Le due coppie, infatti, pare che stessero lasciando gli studi di Ballando con le stelle e, dunque, fotografati dai paparazzi presenti sul posto. A quanto pare, oltre che sulla pista da ballo, i quattro concorrenti sembrano voler fare sognare i propri fan anche lontano dagli studi televisivi. Ballando con le stelle, chi sono Cristina Icch e Giaro Giarratana? È troppo presto forse per parlare di amore? Certo è che, al momento, le immagini sembrano parlare chiaro. Ma cosa sappiamo di Cristina Icch e Giaro Giarratana? Lei? Cristina, è un'ex modella che da diversi anni ha aperto un canale YouTube su internet ed è molto seguita sui social. Giaro, invece, è un giovane modello italo-olandese molto apprezzato dal pubblico femminile. Belli, giovani e adesso, forse, pure innamorati.